che bianca a fare mi ha messo in parte guarda traino di moto mareatore bcs di strada ma bianca che te lo guardi eccoci alla guida del moto mareatore bcs con la moto facciatrice bcs la scorta davanti Martino DJ facciamo la scorta con le quattro frecce la bianca farlo vediamo il motore bcs la ultima curva se chiama il minimo se chiama manetta per quanto per quanto per quanto eee per quanto